E allora benvenuti riperiani, oggi andiamo ad aprire il Donner DC20, se seguite il mio canale di Telegram l'avete pagato praticamente una ventina di euro, 23 euro circa, andiamo a liberare un po' di spazio sulla scrivania, queste sono cose che vedremo più avanti, questo è un piccolo portatile Linux, quello è un Raspberry Pi e una scheda audio anch'essa da 23 euro, ma sarà per un'altra puntata. Quindi allora a prezzo pieno questo microfono non so quanto senso possa avere, ma volevo capire se questo Donner poteva, mi serve un coltello, se questo Donner dà 20 euro appunto quando c'è lo scontissimo del 50% che abbiamo preso appunto grazie al canale Telegram, se può avere senso rispetto invece diciamo la grande alternativa di questo microfono, che è appunto il newer, il BM800, ve lo faccio vedere, diciamo che siamo lì come prezzo, quindi vediamo quale dei due può essere meglio. Come al solito un sacco di accessori che a questo price point mi sorprendono sempre. Abbiamo quindi il microfono che, ti dirò, ha anche un peso abbastanza decente, una costruzione gun metal, un po' come le ultime serie dell'acustica, dell'audiotecnica scusate, questo sembra un po' un 20-20 dell'audiotecnica effettivamente. Poi nella confezione abbiamo anche un cavo XLRXLR, di fattura abbastanza bassa, ma a questo prezzo di cosa ci sorprendiamo. Poi abbiamo un mount per il microfono, quindi niente shock mount, ma solo un mount normale. Ah no, c'è anche lo shock mount, completamente plastico, ma sembra fare il suo mestiere. E un piccolo treppiedi che è sempre molto gradito nel resto della scatola, poi nient'altro. Ah no, anche un pouch per metterlo via e il portadocumenti. No, un pop filter. Maronna ragazze, che kit. Per chi di voi che l'ha rattato a questo prezzo, direi decisamente un ottimo furto abbiamo fatto. Quindi possiamo andare a mettere il nostro treppiedi, mettere il nostro... Usiamo lo shock mount. Nello shock mount è presente anche il riduttore, quello da grande a piccolo, mentre qui no. Però facciamo una cosa del genere. Facciamo questo qui. Facciamo così. Ci infiliamo dentro il nostro microfono. Si potrà smontare se c'è una vite e questo qui sarà così, con la possibilità di loccarlo con la sua vite interna. Qual è il davanti, qual è il dietro? Immagino che questo sia il davanti, quello con la scrittina. Quindi abbiamo il nostro treppiedino. Invece nel caso, questo qui è molto simile a anche quello che fa la S-Electronics. Praticamente il pop filter ha il suo posticino davanti al microfono. Very figo. È una specie di zip tie. Praticamente entra, c'è un suo blocchettino sotto che lo blocca. Molto bello. Molto molto bello. Ma al momento non lo useremo. Possiamo provare una cosa facile. Ossia andare semplicemente a staccare questo microfono e attaccare questo. Così avete la stessa catena che state sentendo ora. In questo momento qui c'è un piccolo denoiser. Passa alto, un desser che sta lavorecchiando sa 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 di un 3db. Un piccolo compressore e basta. È un leveller. Quindi è una catena molto molto secca e naturale. Andiamo ad attaccare il nostro donner. Quindi questo qui è il nostro donner che entra appunto al posto dell'SM57 che stavo usando prima. Lo possiamo sentire in questo momento. Come altra alternativa vi faccio sentire invece un BM800 o NV800. Nel caso sia rimarchiato Neewer. Lo stacco l'attacco. Questo qui è invece l'NV800 che sta clippando moltissimo. C'è decisamente troppo gain per questo microfono. Facciamo così. Facciamo un test un pochino più scientifico e andiamo a usare un altro preamplificatore. Allora le differenze sono un po' queste qui. Praticamente questo qui è in realtà un Electract. Non è un microfono veramente a condensatore. E mentre questo qui è o dovrebbe essere effettivamente un microfono a condensatore. Confermiamolo sul sito prima di dire potanate. Large diagram condenser. Allora condenser microphone, cardioide 20-20.000, impedenza 100 ohm, maximum input 144 db SPL. Quindi possiamo usare anche delle fonti abbastanza rumorose. Signal to noise 74 dba. Non il massimo. Vediamo se ha un impatto nell'utilizzo di tutti i giorni. Ora abbiamo in blu appunto il BM800 e in grigio invece il Donner. Andiamoli a sentire. Quindi ora state sentendo entrambi i microfoni assieme e siamo un pochino alti di gain. Quindi andiamo a tirare giù un po' il nostro input. Diamo un 30 db per entrambi. Ma gli mettiamo sopra un Luveler. In modo che abbiamo lo stesso volume per entrambi. Siamo fuori fase. Ok, così siamo in fase. Allora, questo qui quindi è il nostro BM800. Mi alza un po' il volume in cuffia. Mentre questo qui è il nostro Donner. Come rumore di fondo. Molto meno rumore di fondo nel DC20. Un suono molto interessante a mio avviso. Sto sentendo una roba interessante. Molto più nasale. Il BM800 invece è molto più naturale. Il Donner. Ci sto parlando a circa una spanna di distanza. Non è ottimale. Adesso mi avvicino e abbasso il gain. Molto più sensibile. Ora possiamo andare a parlarci dentro direttamente. Questo qui è no shock mount, no pop filter. Ok, sentite infatti che il pop filter mi sta dando noia. Mi metto di fianco. Ok, quindi ci parlerò. Ci parlo di fianco. In modo da non avere problemi di plosive. Un pochino rimane, ma non molto. Beh, è un suono molto interessante a mio avviso. Rumore di fondo non rilevato. Molto basso. O comunque quello del mio studio. Mentre se andiamo sull'NV800 sentiamo molto più rumore di fondo. Oddio. Comunque poi una volta che si sta vicino non si sente molto. Del motivo per cui vi ho sempre consigliato questo microfono molto poco costoso. È un filo più nasale. C'è qualche risonanza in più. Ma poi alla fine vedete che all'atto pratico è molto molto usatile. Sicuramente questo Donner superiore. Ok, se andiamo a sentire questo Donner molto più naturale. Un pochino meno gonfio anche sulle basse. È un pochino innaturale l'NV800. Anche se piacevole a volte. Però vi dirò. Niente di strano. Sembra funzionare tutto. Sembra essere comunque un microfono che non mi dà grossissimi problemi. Che sta facendo il suo mestiere. Se vado a rubare il suo pop filter vediamo che funziona anche. Quindi pop filter. Beh, oddio. Se funziona. Sediamo un po' di distanza. Quindi un tre dita. Non fermo molto questo pop filter. E non è mai sufficiente. Questi pop filter qua a griglia funzionano un po' quando vogliono loro onestamente. Pop filter. Cioè se abbiamo delle plosive molto brillanti. Non riescono a fermarle. Io sono sempre un fan dei classici. Non ne ho un giro neanche uno. Ah, ce li ho di là. Gli spugnotti. Gli spugnotti. Quelli grossi. Quelli fanno veramente il loro mestiere. Che test possiamo fare? Possiamo registrare. C'è un po' di rumorino di fondo. Lo sentite? Possiamo andare di là a rubare una chitarra al volo? Possiamo anche fare un test invece con microfoni molto più costosi. Abbiamo qui un Asson Origin e abbiamo qui uno Stellar X2. Andiamo a vedere. Li tengo proprio in mano in questo modo. Ora state sentendo il DC20. Mentre questo qui è lo Stellar. Stellar, cerchiamo di mettere entrambi che guardano la mia faccia. Ok? Lo vedete anche in telecamera come li sto tenendo. Circa una spanna di distanza. Questo qui è lo Stellar X3. Sono 300 euro di microfono. Questo qui invece è il Donner DC20. Un pochino meno rotondo nelle basse. Però, quando vi dico che oramai i microfoni non sono più importanti, è questo. Ragazzi, 20 euro. 20 euro. E la differenza è questa. Tra 20 e 300 euro. O 2,99 quando ho in sconto. Ok? Quindi, sul parlato potete fare quello che volete. Ovviamente, ovviamente, mi sta piacendo di più lo Stellar. Ok? Cioè, parliamoci chiaro. Non c'è grosso paragone. Vediamo con l'Origin. Aston Origin. Eccolo qua. Questo qui è l'Aston Origin. Mi piace sempre molto. È il motivo per cui vi consiglio l'Aston. Sentite un pochino più sensibile alle S. Mentre il DC20 ha un pochino più di roll off nelle alte. Ed è un pochino più nasale, sui 1000 Hz. Mentre sentiamo che è un pochino più naturale. Ma sento un filo più di riverberino, tipo. Mentre questo qui è un pochino più resistente anche al riverbero. Quindi probabilmente ha un cardioide un pochino più stretto rispetto l'Aston. Che invece è un cardioide un pochino più largo. Che quindi ti necessita una... Come si chiama? Ti necessita di un'acustica un pochino più bella della tua stanza. Però sentite che oramai, ragazzi, c'è di cosa stiamo parlando. Quanto posso parlarci intorno? Ossia, fuori asse, qual è la sensibilità di questo microfono? Quindi se io mi giro, vedo che però entra un pochino di più. Reggetta abbastanza bene da dietro. Ma poi non più di tanto. L'Aston secondo me si comporta un po' meglio. Quindi questo è l'Aston da davanti. Se mi giro di fianco sentite che prende un pochino meno la mia voce girandola. E questo qua ti permette appunto di avere meno spill dagli strumenti che hai di fianco. Anche se sento che sembra prendere, sai cos'è, è più largo davanti ma ti prende meno dietro. Mentre il Donner è a fuoco soltanto, se ci parli, proprio perfettamente perpendicolare, ma non ha tutta questa... Sentite, passano comunque queste medie molto fastidiose. Ed è uno dei motivi per cui ancora adesso, nonostante questi microfoni poco costosi, cioè, suonano così bene, è appunto questo. Cioè, come il microfono ti prende il suono che arriva fuori asse. Appunto, immaginati in uno studio, hai non solo le pareti dello studio, ma anche magari altri musicisti. O se hai un overhead di una batteria, comunque più spilled a tutti i pezzi. Se lo stai usando magari sui tom, lo stai usando, stai facendo delle brush drums, quindi lo stai usando sul rullante. Ti prenderà più del resto del kit. Mentre altri tipi di microfoni sono un pochino più resistenti. Rifacciamo questo test anche sull'Electract, questo qua è il BM800. Sentiamo che è quello che suona un pochino peggio rispetto agli altri. Se andiamo fuori asse, vediamo che abbiamo questa... Vedete come fuori asse suoni molto male, è molto brutto. Ed è questo quello che ti rovina un po' le registrazioni. Tuner, tuner, tuner. Tuner, 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 tuner. Tuner, 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 tuner. Dimenticabile. Come sentite non c'è differenza, non gliene frega un cazzo a nessuno. Questa è la realtà. In questo budget una volta che avete meno rumore di fondo e vi serve un pochino meno gain della vostra scheda audio come vedete il 1020 necessita un pochino più di gain rispetto il BM800 ma è meglio perché molto spesso il BM800 viene segnalato che gratta o clippa mentre questo qui tiene fino a 140 dB quindi non avete il problema che se urlate non lo mandate in clip nemmeno a pagarlo. Quindi consigliatissimo se e solo se in un range di prezzo che non passi i 40 euro 60 non li pagherei 40 sì ma questo qui è appunto il BM800 killer quando è in offerta ovviamente a 59 euro onestamente non lo non lo comprerei. Ah scusate voi tra l'altro state sentendo il BM quando c'era uno sconto che va giù al 50 per cento allora sì o in zona 30 euro secondo me è un buon è un buon deal. Che dire rimanete aggiornati con il mio canale telegram shopping dove tutte le rattate del mondo come questa verranno fuori sono molto completo perché l'avete comprato circa in un centinaio di persone very nice. E ah scusate faccio un clap questa è una roba mia perché sennò divento scemo poi in montaggio. Ha! Ding! Cosa vuole? Oggi è il compleanno di Tere gli fai gli auguri? Auguri Teresina! Ah mia zia scrittrice scrive i libri fuori come un balcone come tutta la mia famiglia. Bello! Bello! A 30 euro figa! E la costruzione è bellissima! Cioè proprio metallo gunmetal questo qui mi spiace non averlo in casa l'ho prestato maledizione vuole essere limitazione a mio avviso della T2020 come vedete. Alternative sono queste però vedete 50 euro sono abbastanza un po' elevati quindi abbiamo detto l'NV800 anche se Electract può essere un'alternativa vedete sui 23 euro con tutti i vari kit. Però capite che a poco di più potete farvi un Donner in questo momento se dovessi consigliare a qualcuno un microfono. Ho sempre consigliato questo per budget molto 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 bassi. Questo a 10-20 potrebbe entrare un pochino a gomito alzato se in sconto a 60 euro onestamente no. Il Behringer B1 rimane un'alternativa vedete 89 euro siamo un po' siamo lì come come costi altrimenti mi viene in mente sicuramente sempre in questa zona di costo l'SB788A forma da vedersi completamente diversa ma anche questo qua è un condensatore non è un dinamico. Ha uscito anche un BM900 bellissimo sempre Electract però allora non ci piace. KG non mi sono mai piaciuti più di tanto Fonomic 69 anche no. Questa qui è un altro è un altro Donner praticamente che vuole scmiottare un po' di più l'U87 sono però 149 euro è un altro livello che è un po' dove va il Behringer B2. Il Behringer B2 Pro va un po' nella stessa direzione 128 euro anche lui diciamo come i microfoni sempre di basso costo. Censioni positive ho avuto una brutta esperienza con un Marans qualche anno fa e mi ha fatto un po' dimenticare la marca perché avevo preso un Marans di questi e c'era proprio un ronzone fisso sotto una roba veramente orenda. Ecco il Behringer C1 è un'alternativa a tutto questo delirio anche lui un condensatore molto poco costoso fa il suo mestiere senza chiedere troppe troppe robe difficili. Questo qui invece è l'SM57 con il processing che vi descrivevo a inizio video. Sì il C1 può essere un'alternativa in questi casi che altro c'è il C2 se volete una coppia stereo anche quella niente male il PreSonus 60 euro mai provato. È vero l'A1 bisognerebbe provarlo oppure in alternativa è vero non mi è venuto in mente di provarli. Su Toman ci sono i vedete il C1 Superlux non l'ho mai provato io nello specifico ho questi l'SC400 e l'SC600 se non sbaglio dovrebbe ancora esistere esatto che sono quelli che uso nella mia testa li vedete qua un po' sfocati adesso non ve li posso far sentire perché sono dentro nel vecchio simulatore cuffia che devo ancora smontare. Questi sono molto simili a questo DC20 io ci ho fatto un sacco di lavori il DC l'SC400 è semplicemente cardio senza nessun tipo di controllo l'SC600 può essere o omnidirezionale o cardioide con anche il passa alto se vi interessa una settantina di euro anche questi sono molto molto interessanti che sono poi mi dite che vi consiglio sulla roba che c'è su Amazon perché c'è il referral. Questi qui sono un'alternativa ecco l'XLR in dotazione con il Donner mamma mia ragazzi che cinesata incredibile però in questo prezzo non posso pretendere troppo fammi vedere come sono fatte le saldature no sono fatte anche bene le saldature c'è anche il termorestringente ma pensavo molto peggio. Eh sì bravi è un'imitazione cinese di un di un connettore neutric è anche numerato cazzo vuoi di più della vita però si sente proprio il materiale molto molto brutto. Eh fatemi sapere se volete la comparativa con gli SC ve la faccio in un altro video perché devo smontare il tutto e oggi purtroppo ho finito il tempo a disposizione per i periani. Se volete facciamo un breve video lasciatemelo qua sotto nei lo facciamo qua sotto nei commenti facciamo magari la battaglia del low cost facciamo SC400 SC600 Donner e BM800 con un video semplicemente di test. Fatemi sapere se volete qua sotto nei commenti oppure se già questo video è sufficiente per farvi capire un po' che tutti questi microfoni sono tutti un po' uguali non c'è più diciamo un po' la malattia di oddio Francesco che microfono compro oramai nel 2022 qualsiasi cosa compri cadi in piedi. Un utilizzo home studio senza pretese ok prima che qua sotto la gente si infiammi e tutto però una volta aveva molto più senso il microfono un pochino più costoso del motivo per cui come vedete in casa ho ancora comunque qualche microfono di fascia un pochino più alta ma onestamente personalmente non me ne frega più un cazzo. Una volta che suona ho tutta la banda che mi serve e non ho rumore di fondo da lì poi in mix posso ottenere oramai il suono che voglio ho talmente tanti saturatori compressori equalizzatori exciter simulatori denoiser da realtà virtuale dell'intelligenza artificiale per sopprimere la mia stupidità reale che non mi serve più il microfono figo. Una volta aveva più senso perché perché senza tutti questi plug in partire da un buon suono era fondamentale per arrivare a un buon suono ma oramai puoi partire dalla merda e arrivare veramente all'oro. Bella questa alternativa dell'audio tecnica mi è piaciuta audio tecnica se vuoi fare causa alla donna è il tuo momento di farlo perché questo è un pochino troppo simile un po' ai tuoi microfoni anche il colore e le finiture sembra veramente un 20-20 gun metal io fosse in lei chiamerei un avvocato. Non di pre un altro avvocato uno meno vado a ucciderla puttana no uno un pochino più un avvocato quel cua cravatta ciao